Oddio por**o Bella vecchi trapani bentornati qui sul canale di Granas Oggi siamo tornati Dopo tantissimo tempo C'è La luce Il pack opening Con gli ultimi soldi rimasti Si le finiremo tutti che bella cosa Se erano 10 avevamo finito il cash Parto io Aspetta Vabbè partimo col pacchetto mega così io ne apro uno in più No no prima quello oro Oh Griezmann Oh Mamma mia che merda Porca Non è porca E' porca Valera E' porca Valera Come lo posso? No a modo che il pacchetto mega meno non per cazzo Oddio Oh Mamma mia rega Gira te gira te lo dico io Vai Eccolo 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 Oddio Ci stai in anno Ma che merda è Kuzufaio Kuzufaio Ti voglio capito Cazzo Aspetta Tata 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 Fatima nulla Vai 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 dai cazzo sono creduto io pensavo che ero Royce Eh no calcola io invece ho flashato di... Basta Me ne vado perché adesso li rompo tutti Piatti Tammamia Forse che i coglioni anche i piatti rompio capito? questo lo apro io perchè è mio Messi c'è Messi c'è Messi c'è adriano vai oro un bel pacchettone oro vai alabà vai alabà intanto i soldi calmo calmo perera poi c'è maluta ancora gioca maluta ma davvero ancora mio guarda è più vecchio di te i vecchi trapani capite i bandiere nere c'è i Moses party vai 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 sta zitto c'è vuole concentrazione adesso tuntum oddio l'ho fatto 4 volte quindi vuol dire che è un buon pacchetto tra l'altro mi sta anche per cascare mi ha fatto 3 volte oh 4 i nan ma l'altra volta i nan ma tra l'altro la prima l'hai scartato quindi l'abbiamo ritrovato che non è doppione e se no non troviamo manco il giocatore guarda guarda che roba tetei 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 viva le tetei veltuizen sal papadopulos tlazen uno dei quelli che gioca al lol è lui lcs lui sicuro bagato è bagato il momento buono e cominciato a martellare si è bagato il momento buono per pipa si è bagato tutto per se sei preso aggiornamento oro metaglio è lui ho preso vero aggiornamento oro ha preso un aggiornamento oro ha preso un aggiornamento oro ma dai ha preso vabbè però abbiamo trovato tanti giocatori buoni nella giornata di tutti lo giuro lo vero si ma no sinto che c'è un pacchetto importante è bagato meghi si oddio che bella no mi tira divisa da colonia come seconda te prego guarda quanto è figa ma che cazzo ci sta no lito ci sta no ma non vale lito cabron mamma mia suarez incredibile è lui è il fratello scartalo scartalo vai dread vai dread attenzione concentrazione perché c'è l'ultimo pacchetto meghi lo schimpa lo schimpa non è vero vai oddio porco ma io non volevo di questo solo di porco cane adesso oddio è la più bella che aveva sentita solo di porco cane capito era oddio poi porco cane però che vale bello bello prezzo max 6.000 zanzan zanzan ma lei era pelato il zan è fatto in altro è tutto il zan sei tutto il zan si chiama no magari era sempre il grado sarà in poce tu zan dai no 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 c'è zanzan no però era attaccato con il zan e poi c'è colui che ti dà le lettere il postica poi valenza e basta ragazzi 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 il video è finito mentre lui non ci sente più neanche io perché rimbomba tutto qua mi raccomando se vi è piaciuto soprattutto la sua reazione epica a pisarro che non veramente non volevo di porco cane cioè immagino rile io ho uscito tutto insieme oddio lasciate tanti like 5.000 like un altro video e dai anas e dai granas è tutto bella ciao 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 .